sono felice di essere di nuovo con voi e di essere ritornata nel mio salotto dopo una breve assenza voglio ringraziarvi ancora tutti per la vostra vicinanza per tutte le vostre belle parole e adesso siamo di nuovo qua pronti sul campo a lavorare molto presenti e molto vicino a voi come sempre ora questa sera abbiamo di nuovo con noi Anne Givodan che noi amiamo molto e anche so che è molto attesa da voi e io sono felice che Anne ci condivida un po' del suo tempo anche con noi dati i suoi molteplici impegni questa sera sarà una serata molto interessante perché è molto vicina alle nostre tematiche voi sapete che Anne Givodan è conosciuta al pubblico per i suoi numerosi libri che ha scritto per i suoi viaggi in astrale per le sue pubblicazioni che spazzano su contenuti che vanno dal dopo vita quindi sui vari mondi anche sugli altri pianeti insomma insomma ci ha consegnato continua a consegnarci gli insegnamenti delle antiche terapie e sene insomma è una persona che è molto ricca di ricerche di un cammino in questo mondo che appartiene proprio a Focus il mondo del mistero della vita che lei sta indagando da tanti anni e quindi questa sera sarà qui con noi proprio per aiutarci e farci soprattutto raccontare da lei quelle che sono le sue esperienze e questa sera parleremo in modo particolare del suo ultimo libro che si intitola proprio e se la vita continuasse e quindi adesso noi questa sera avremo in modo di poterne parlare con lei e di farla accomodare nel nostro salotto benvenuta cara Anna grazie e buongiorno a tutti e a tutti buongiorno a tutti e a tutte bentornata nel nostro salotto di Anna bentornata su Focus grazie a nome mio a nome di Enrico Valentini e di tutti i nostri amici numerosissimi iscritti a Focus il mistero della vita ora questa sera avremo tanto 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 di che parlare come al solito ci mancherà il tempo ma cerchiamo di stringere subito io ho detto ai nostri amici che questa sera parleremo del tuo ultimo libro no e se la vita continua ecco intanto vedo che i nostri amici stanno iniziando ad arrivare anzi siamo già in tanti grazie e benvenuti a tutti benvenuti a tutti benvenuti a tutti a tutte ecco Anna Cara cominciamo a parlare di questo libro intanto perché hai deciso di scrivere questo libro e se la vita continuasse e se la vita ma è la guida che ho avuto fin dall'inizio, quello che ritroviamo nei primi libri, che mi ha sempre proposto un argomento o un'esperienza, ma io ho sempre detto sì, perché sapevo che corrispondeva a delle persone o a un bisogno o a un'epoca. E quando la mia guida mi ha quindi proposto di entrare in contatto con questa giovane donna che era appena morta di un incidente d'auto, e io mi sono detta in effetti nella nostra epoca abbiamo ancora troppa paura della morte. E quello che sta accadendo in questo momento lo mostra completamente. Certo, certo. Io voglio mostrare ai nostri amici questo tuo ultimo libro, che io ho letto tutto di corsa, E se la vita continuasse, una straordinaria testimonianza sul karma nel dopo vita. Edizioni Amrita. Questo libro io lo consiglio a tutti. Cioè, se volete fare un regalo, adesso che è Natale, insomma, regalatevi e regalate questo libro. Perché... Sì, sì, perché... Il è, in effetti, il è gioio, in effetti. Sa parla della morte. Ma anche divertente. Un libro è curioso, perché sì che parla della morte, ma ne parla gioiosamente. Certo, difatti è anche divertente, ma trovo che sia... Cioè, il senso della vita e della morte è romanzato, ecco, insomma, in qualche modo. Sì, sì, esattamente. Ma la vita è come un romanzo. Non si sente più. Ah, la vita è come un romanzo. Non si sente più. Vediamo che cosa è successo. Ecco. In teoria qua funziona. Adesso, sì, vai e viene. Ah, non cambia. Aspetta. Non so che c'è problema, perché sono collegata. Ecco, adesso si sente. Si sente adesso? Allora. Sì. Si sentite? Ok. Diceva che la vita è proprio come un romanzo, in generale. Difatti. È un libro veramente molto, molto, molto piacevole. E dà tanti spunti e dà anche, appunto, tante risposte, come dicevo prima, perché proprio c'è su quelle che sono le istanze esistenziali dell'uomo, no? Quindi, chi siamo, dove veniamo, dove andiamo, cos'è la vita, cos'è la morte, cosa succede dopo, no? E quindi questo racconto anche del karma, del dopo questa vita e quindi della vita, oltre la vita, no? Ecco, è molto, è veramente molto, molto esplicativo. E quindi grazie Anne perché hai scritto un libro così piacevole. E in questo libro, come dicevo prima, vengono toccati, cioè ci sono tutti i contenuti importanti, in ogni capitolo, di vari aspetti e di varie questioni, ecco, che l'uomo si pone, ecco. Intanto, se vuoi fare tu un breve riassunto, ecco, del libro. Sì, bien sûr, bien sûr. Eh, già, 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 quando la mia guida mi ha proposto questo incontro, Già quando la mia guida mi ha proposto questo incontro, Io non so mai cosa succederà dopo. Io non so mai quello che accadrà poi. Quindi, c'è sempre una sorpresa. E già ho amato il contatto con questa giovane. E quindi per me è sempre una sorpresa. E ho già amato, fin dall'inizio, il contatto con questa giovane donna. Perché l'ho trovata molto spontanea. E nelle sue reazioni mi sono detta che c'erano molte persone che potevano riconoscersi. Quindi c'è qualcuno di piuttosto simpatico, ovviamente. Quindi è qualcuno di simpatico. Molto simpatico. Ma che non sa, in realtà, di tutto. E non sa che è morta. Perché si è passato brutalmente. Ma lei all'inizio non sa che è morta. Perché la cosa è avvenuta brutalmente. E c'è questo che è abbastanza straordinario. Perché significa che, in realtà, non c'è abbastanza differenza tra la vita e la morte. E questa cosa è assolutamente straordinaria. Perché vuol dire che, in realtà, non c'è una grande differenza tra la vita e la morte. Allora, ovviamente, qualcuno che muore di una lunga malattia, il sa che va morire. Chiaramente, qualcuno che muore dopo una lunga malattia, sa che sta per morire, sta morendo. Ma tutte le persone che ho visto che morirono in un modo brutale. Ma tutte le persone che ho visto che morirono in un modo brutale. Che sia perché avevano un accidente, perché avevano una crisi cardiaque, qualcosa di brutale. Che si trattasse di un incidente, oppure un infarto, o qualcosa di brutale. Tutte avevano in comune il fatto che non si rendevano conto di essere morte. E la prima cosa che hanno voglia di fare, è, per esempio, la prima cosa che hanno voglia di fare sono cose comuni. E la prima cosa che hanno voglia di fare sono cose comuni. Per esempio, lei, la prima cosa, cerca il suo cellulare. E dice, ma dove ho infilato il cellulare? E quindi, c'è alla fine, in un momento, è strano, ma in un momento molto realistico. Quindi, al tempo stesso, un po' strano, ma anche molto realistico. E poi, a un momento, quindi, va sapercevare che tutto ciò che vive e tutto ciò che ha vissuto, non è mai un hasard. E a un certo punto, lei si rende conto che tutto quello che vive e che ha vissuto non è legato al caso. E a un momento, c'è anche qualcosa di dritto, dove lei dice, ma non è possibile. Se continua, voglio morire. E a un certo punto c'è una cosa divertente. Lei si dice, ma non è possibile. Se continua così, morirò. Sì, è bellissimo quel passaggio. Più di una volta dice, potrei morire. Sì, è più di una volta. Sì, è più di una volta, sì. E il guide, perché è un guide di un alto livello, d'ailleurs. E la guida, perché tra l'altro ha una guida di alto livello. E la compagna. E io comprendo perché, in effetti, ho dovuto raccontare questa storia. E ho capito poi perché ho dovuto raccontare proprio questa storia. E il guide lui dice, ma non, guarda, tu non puoi morire, c'è già finito. E la guida, quelle volte lì, gli dice, guarda che sei già morta, quindi non puoi morire di nuovo. Sì. E quindi, questo crea delle situazioni che sono abbastanza strane. E questa cosa crea delle situazioni che sono un po' strane. Per esempio, quando lei sui suo corpo fino all'opitalo, dove va fare un prelevement d'organi. Per esempio, io seguo il suo corpo fino all'ospedale, dove gli preleveranno gli organi. Ehi, no, no, no! Perché è giovane, non è malata ed è una donazione degli organi. E lei ha detto, ma vuoi i miei organi? Ma lei dice, aiuto, mi stanno rubando gli organi. E' bellissimo quel passaggio lì. E io mi sono divertita a leggerlo, è questo libro. E c'è uno degli studenti in medicina che è lì assiste a questo tratto, e che sente qualcosa, si rende conto di qualcosa intorno. E lui ha più envie, e dice, ma non abbiamo abbastanza rispetto per il corpo quando preleviamo gli organi? E dice, ma non abbiamo abbastanza rispetto per il corpo quando preleviamo gli organi. E di coup, ça fait réfléchir tout le monde. E questa cosa fa un po' riflettere tutti quanti. ma si rende conto che, in fait, ces organi... E ça m'a fait penser à un vieux film qui s'appelé «Jesu de Montréal». Lei si è resa conto che i suoi organi... Questa cosa mi ha fatto pensare a un vecchio film che si chiamava «Jesu de Montréal». Si. Ces organi vont à une personne, puis à une autre, mais qui a une raison. C'est une raison, c'est une raison, c'est un motif. Si. Quelles pages sont très intéressantes, effectivement, parce que nous font comprendre ce qui se passe pendant les troupes, quand un organe passe dans un autre corps, non ? Oui, oui. Alors, sur un plan subtil, je sais que les organes, donc, ont chacun une note de musique particulière. Sur le piano subtil, je sais que chaque organe a une seule note musicale particulière. Donc... Et nous sommes comme une... une symphonie, une armonie... Et nous sommes comme une symphonie, une armonie, une armonie de notes. Et quand on fait une transplantation, ça veut dire que l'organe, avec sa note de musique, va sur un autre corps qui n'a pas la même note, qui n'a pas la même armonie. Et quand on fait un troupes, ça veut dire que l'organe, avec sa note, qui est inséré dans un corps où il y a une armonie, une armonie qui est différente. Et souvent, il peut y avoir un rejet à cause de ça, parce que la note n'arrive pas à se mettre au bon son. Et si la note n'arrive pas à harmoniser avec les autres notes du corps, ça peut être une cause de... Il peut y avoir un rejet. Oui, il peut y avoir un rejet. Il peut y avoir un rejet. Il peut y avoir un rejet. C'est ça. Mais en même temps, il faut savoir que la personne qui est le donneur et le receveur vont garder un lien tout le temps de la durée de la vie du receveur. Il faut savoir que le donateur et celui qui receve le troupes vont garder un lien sottile pour tout le temps de la vie de celui qui receve le troupes. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter le livre. Non vous raconte tout le livre. Mais... Mais... C'est vrai, à un moment donné, elle est très choquée parce qu'elle ne veut pas donner son organe à une certaine personne. Mais à un certain point, c'est vrai qu'elle est vraiment choquée parce qu'elle ne veut pas donner l'organe à cette personne en particulier. Jusqu'à ce qu'elle comprende pourquoi. Et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a pas de... 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 Que la vie est bien faite quand même. Et là, on voit vraiment qu'il n'y a pas la casualité, qu'il n'y a pas le cas, la vie est vraiment bien. Et c'est pas parce qu'on a quitté son corps physique que la vie ne continue pas. Et c'est pas parce qu'on a quitté son corps physique qu'il n'y a pas. Donc il y a plein de choses qu'elle perçoit de cette façon-là. À chaque fois, elle passe une porte. C'est-à-dire. Il y a beaucoup de choses qu'elle percepisce dans cette façon. Et chaque fois, elle passe une porte. Et il faut savoir que quand quelqu'un meurt, ce qui est le plus difficile pour lui... La chose que il faut savoir c'est que quand quelqu'un meurt, c'est la chose qui est plus difficile pour la personne. C'est qu'il a envie d'aller voir les gens qu'il aime. C'est qu'il a envie d'aller voir les gens qu'il aime. Et puis leur dire mais je suis bien, regarde, tout va bien. Et dire, mais non, mais regarde, en réalité, c'est bien, je suis là, je suis à ton côté. Et pour lui dire qu'ils sont vivants. C'est difficile pour une personne qui a quitté son corps physique de montrer parce qu'elle traverse la matière. Et c'est difficile pour une personne qui a quitté son corps physique de montrer parce qu'elle traverse la matière. Donc, elle n'a pas beaucoup de prise sur la matière. Elle n'en a beaucoup de prise sur la matière. Mais à un moment donné, justement, c'est comme un peu dans le film Fantôme d'amour, peut-être. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Ah oui, Ghost. Oui. Pas comme dans le film Ghost. À un moment donné, comment il apprend à faire bouger une boîte de conserve. Il faut savoir que cette jeune femme essaie de contacter les gens qu'elle aime et puis elle est déçue parce que personne la voit, personne l'entend. Donc, elle essaie de contacter les personnes qu'elle aime mais elle est délouise parce que personne ne la voit, personne ne la sente. Et tout le monde pleure sur son corps. Et tout le monde pleure sur son corps. Alors qu'elle, elle est à côté, elle est à côté d'eux. Une chose intéressante et qui peut servir aussi pour nos amis, c'est le fait que quand nous avons beaucoup de souffrance, en quelque sorte, nous avons créé une parete, un mur, c'est difficile de traverser pour ceux qui sont d'autre côté. Donc, par exemple, je sentais, beaucoup de souffrance, je me demande ça, mais je ne fais pas un rêve, je ne disais pas pas un signal, je ne disais pas un signal, je ne disais pas un message, je ne disais pas un message, je ne disais pas un message. è difficile per qualcuno che ha lasciato il corpo fisico poter intervenire se la persona è presa dentro a un velo di tristezza è normale essere triste ma quando la tristezza è troppo profonda è difficile intervenire per lui che è passato dall'altro cote ma quando la tristezza, almeno all'inizio, è troppo profonda è difficile per la persona che è passata dall'altra parte intervenire, interagire c'è anche la considerare che a volte non lo fa perché più si avvicina alla persona che ama e più questa persona soffre più la persona soffre perché non lo sente fisicamente ma qualche parte c'è come se il lui manchait o pensait a lui ancora più è come se a qualche livello la persona che è morta gli mancasse o pensasse un po' di più a lui e quindi la persona che ha lasciato il proprio corpo fisico quando vede queste cose si allontana nell'attesa che ci sia un po' più di pace ma cerca di mostrare che è in grado di far muovere qualcosa almeno ci prova a far muovere qualcosa di far craquer l'escalier di far soffia su una candela di far rumore del legno sulle scale di fare come un piccolo venticello fanno quello che possono in qualche modo usano ciò che c'è intorno a noi per dare i segnali certo io direi che sarebbe anche utile che tu rassicurassi i nostri amici del fatto che tutti quanti abbiamo uno spirito guida che ci accompagna quando il nostro corpo sì, certamente tutte le persone che ho visto uscire dal loro corpo fisico o c'è la famiglia che è morta prima di loro i familiari, gli amici che li accolgono e è proprio come una nascita su un altro piano sull'altro piano e anche se la famiglia non è sulla même longueur d'onde e anche se la famiglia non è sulla stessa lunghezza d'onda non è nello stesso mondo si darà appuntamento per quel momento e circonderanno la persona che sta arrivando oppure ci saranno delle guide che si occuperanno comunque di questa persona non siamo mai soli abbiamo uno spirito guida che ci accompagna sempre da quando noi accompagna la nostra anima nell'esperienza terrena e che quindi l'accompagna anche nel momento in cui sì, ma a volte non lo vediamo sì, ma a volte non lo vediamo a volte non lo sentiamo non lo percepiamo perché abbiamo bloccato una parte di noi abbiamo bloccato questa parte più spirituale abbiamo bloccato questa parte un po' più spirituale ma ce che volevo dire le guide ne peuvent pas contacter e in quei mondi le guide non riescono ancora a contattarli in questo mondo là devono aspettare che il mondo illusorio inizi a sparire e quando il mondo illusorio inizi a disparare e quando comincia a cancellarsi e a sparire a quel punto le guide potranno intervenire questo vale per le persone che hanno delle credenze molto forti che dicono quando arrivo al paradiso vedrò gli angeli con le ali e poi tutto d'un coup e a un certo punto si renderanno conto c'è qualcosa che non va, che stona in questo decoro perché in realtà è creato dal mentale e il mentale non può mantenere un decoro molto molto e il mentale non può mantenere una struttura un decoro simile tanto a lungo e le guide a quel punto possono intervenire diciamo che la cosa importante è dato che una delle grandi paure è proprio quella la più grande paura è quella di morire e non sapere che cosa succederà per l'uomo psicologicamente avere questa serenità questa visione che comunque non siamo abbandonati in una condizione nuova e in una realtà dove non c'è una possibilità di sostegno perché credo che questa sia una delle paure di fondo ecco per tante persone tutte le paure si riassumono nella paura della morte è quello che sta accadendo in questo momento abbiamo paura di perdere l'arguardo paura di non avere da mangiare paura di prendere la malattia ma tutta questa alla fine è la paura della morte è quella la più grande paura e questa è la più grande paura e tant che abbiamo paura della morte abbiamo paura della vita e quindi ci sono cose che non osiamo fare mentre le faremmo se non avessimo paura c'è per questo che c'è veramente importante di dire ma non la vita non s'arrête pas ha un corpo fisico è per quello che è davvero importante è dirsi che la vita non si ferma non si interrompe con il nostro corpo fisico c'è una frase molto bella all'inizio del libro dove dice la protagonista lei dice il mio corpo e io siamo due cose diverse c'è ça assolutamente e spesso ci riduciamo un corpo fisico soprattutto con quello che accade in questo momento utilizzano il senso di colpa e la paura e ci fanno credere che siamo ridotti un semplice corpo fisico e ci fanno dimenticare tutta quella che è la nostra umanità abbiamo paura di abbracciare le persone di prenderle tra le braccia ci diciamo se andiamo a trovare una persona anziana morirà nelle ore che seguono ma anche se diminuisse la durata della sua vita di qualche giorno che cosa è poi così? che cosa è poi così? diciamo che è uno degli altri aspetti insomma del libro ci fa riflettere molto il fatto che noi comunque abbiamo delle responsabilità delle responsabilità quindi il discorso della scelta il discorso anche del libero arbitrio non è che noi veniamo qua e viviamo come dei burattini nella dimensione terrena un progetto che possiamo avere deciso quando eravamo da la cosa che mi ha fatto di dire è che se fa che dell'altro è una cosa tu un'altra via però vieni qui e ho visto un HM ma c'è che sta nel libro arbitrio perché c'è qualcuno che pensa è importante il libro arbitrio perché abbiamo l'impressione che in realtà abbiamo scelto il luogo dove siamo nati la famiglia con cui siamo nati e le incontri importanti che faremo nella nostra vita tutti questi sono previsti ma tra queste cose possiamo prendere la strada più lunga quella più corta la scorciatura abbiamo sempre la possibilità di dire sì di dire no di rallentare l'iniziazione o al contrario di accedere più rapidamente o al contrario di accedervi più rapidamente o andare anche fuori strada si plante completamente ma è a coté direi che questo concetto è molto importante anche perché io purtroppo l'ho sentito dire in un convegno non ho voluto insistere ma perché è stato affermato quando Gesù diceva farete le stesse cose che ho fatto io ebbene è questa cosa era vero è vero è vero perché significa che in ogni di noi c'è questa possibilità c'è questa luce c'è questa possibilità questa luce questo potere e anche di cambiare degli episodi della nostra vita in base al fatto che diciamo sì o no nel momento in cui noi abbiamo fiducia nella nostra anima saremo a un grado a un livello diverso e a quel punto non lotteremo contro ciò che ci arriva che ci succede perché ci sono delle cose che non possiamo cambiare mentre altre le possiamo cambiare e quelle che non possiamo cambiare a un momento in cui più on lutta e più on soffre e quelle che non possiamo cambiare a un certo punto più lottiamo più soffriamo più soffriamo certo c'è un aspetto anzi molto molto importante rispetto alla questione del libero arbitrio che è proprio quella del suicidio perché noi non programmiamo mai il suicidio non lo programmo il nostro libero arbitrio di decidere di rompere e di chiusirsi beh sì ho avuto la fortuna di contattare molte persone che si sono suicidate con il libro a preparare in italiano la rottura del contratto come aiutare e tutti si è aperçu che in realtà non è parte del programma di vita in quel libro tutte queste persone ognuna si era resa conto che il suicidio non faceva parte del loro programma del loro contratto la voglia che ha è tornare sulla terra per riparare in maniera diversa per rifare le cose diversamente c'è un po' come che ha una divinità se noi riusciamo davvero a sentire a percepire che c'è una divinità dentro di voi a quel punto potremmo fare delle cose straordinarie e comprendere e comprendere che quello che ci accade non è dovuto al caso non è che la vita sia buona o cattiva la vita è realista c'è a dire che la vita porta la nostra anima ciò di cui abbiamo bisogno per guarire o per avanzare per andare avanti non vuol dire che sia piacevole o spiacevole c'è come se non tenere di questi aspetti è come un po' se non tenesse conto di questi aspetti per lei ciò che è importante è che l'anima arrivi a grandire per lei quello che conta è che l'anima cresca certo l'evoluzione è quella le pagine dove parla appunto all'inizio della responsabilità che noi abbiamo anche rispetto alla nostra evoluzione quindi l'importanza cioè di fare certe scelte quindi con il nostro libero obiettivo di decidere di volere evolvere se noi non lo sceliamo le persone dovranno capirlo che abbiamo delle responsabilità che invece noi non facciamo niente la colpa è incrociata attenzione non si parla di senso di colpa non siamo colpevoli non siamo colpevoli perché dietro il senso di colpa c'è sempre un giudizio di buono di cattivo ma è importante dirsi che siamo responsabili dei nostri pensieri di nostri pensieri delle nostre parole dei nostri atti e non ci rendiamo abbastanza conto e troppo spesso sono i nostri pensieri che ci gestiscono che ci comandano e noi abbiamo perduto la maîtrisi di nostri pensieri e abbiamo perduto il controllo sui nostri pensieri io so che è importante perché quando io vengo su dei piani sottili io so che questa cosa è davvero importante perché quando vado su dei piani sottili appena pensa qualcosa questo si concretizza subito quindi se io pensavo a delle cose mauvaise o di guerra si concretiserà della guerra se pensassi delle cose negative o di guerra questo si concretizzerebbe subito della guerra o della violenza sì quindi è veramente un domaine è davvero un campo in cui abbiamo molto potere e l'on laisse faire souvent parce que on pense un peu n'importe comment e troppo spesso lasciamo fare lasciamo che sia un po' così perché non pensiamo bene ma pensiamo così a caso non siamo consapevoli sino in fondo di questo potere che abbiamo insisto un po' su questo concetto perché ogni tanto io sento dire appunto delle cose ci sono delle persone che sono convinte che col fatto che abbiamo già fatto un programma quando eravamo di là non si fa niente per cui anche se io scelgo di fare male a qualcuno è perché avevo deciso avevo scritto questo quando ero dall'altra parte questo è un po' particolare magari perché non si sceglie di fare male ma ci possono essere degli incontri che magari sono un po' esplosivi perché stiamo guarendo delle vecchie storie anche con la famiglia vicina con i propri cari i nostri genitori non sono sempre stati nostri genitori i nostri figli non sono sempre stati nostri figli in altre vite e c'è vero che secondo i roli che abbiamo giocato in altre vite è certo che a volte le relazioni sembrano un po' complicate ma a un momento è vero che siamo là per guare tutte queste storie a un certo punto è vero che noi siamo qui per guarire tutte queste storie e non per continuarne all'infinito voglio dirti voglio leggerti un commento di uno dei nostri Anna Anna Pane lei dice ma io quindi avrei scelto di restare vedova con un tumbo piccolo e mio marito ha scelto di morire a 40 anni lasciando un bambino piccolo senza un punto di riferimento sinceramente se era questa ipotesi siamo degli idioti meglio non tornare se abbiamo deciso di fare questo siamo veramente idioti non vale la pena dire questa cosa la si può pensare quando si è triste e si sta male ma qualchefora è come si dice perché si incontra una persona e poi divorza e poi divorza e poi qualchefoi le anni passano si aperce che c'è qualcosa che grazie a ça e poi con gli anni ci si può rendere conto che grazie a questo a questa esperienza abbiamo fatto un enorme passo in avanti allora non può dire che al momento la persona è soffritto della perdita del marito non si può dire nel momento in cui la persona sta soffrendo della perdita del marito questo è certo ma il faut savoir quand même che moi j'ai connu des personnes che m'ont dit la mort d'un enfant c'est quand même ce qui est plus terrible io ho conçu le persone che mi hanno detto sapete la morte di un bambino è una delle cose più terribili ma c'est ce qui leur a permis tout d'un coup d'ouvrir le porte vers d'autres univers vers d'autres mondes improvvisamente gli a permesso di aprire le porte verso altri universi verso altri mondes di recevoir des messaggi di ricevere des messaggi d'apprendre delle cose che non avrebbero mai imparato così veloce se non fossero passati prima da quell'esperienza allora je comprends qu'on puisse être très en colère par rapport a ce qu'on vit dans une vie posso capire che si possa essere molto incolle rispetto all'esperienza che si ha in una vita ma c'est evident qu'il y a une raison parce que quand la jeune femme che je suis meure elle è jeune ma non ha 40 ans ma è ovvio che c'è una motivazione perché quando la giovane donna che sono la giovane donna del libro muore non ha nemmeno 40 anni è giovane e per la mamma sembra completamente ingiusta la cosa ma pour elle ça ne sembrait pas ingiusta elle a vécu des tas d'autres choses importantes ma per lei alla fine non sembrava ingiusto perché ha vissuto così tante altre cose grazie a questa morte e puis il faut savoir qu'une personne qui meure ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas près de vous e poi sappiate che non è che perché una persona è morta che non è più vicino a voi elle est là elle peut vous guider parla c'est comme quelqu'un qui part en voyage qui a beaucoup de choses à faire mais qui quand même est présent c'est comme quelqu'un qui parta en voyage a beaucoup de choses à faire mais il temps est aussi présent et diciamo que ce qui emerge c'est quand on observe ces réalités qui sont de grande fatigue de grande souffrance c'est qu'à la fin vient toujours une raison c'est qu'il y a la mente de l'homme du cuore de l'homme et puis c'est une autre raison c'est qu'il y a l'anime et après ah oui donc il y a l'éreaction par rapport au mental c'est qu'il y a la mente mais oui et souvent on ne comprend pas au départ et spesso la ragione de l'anime à volte à l'inizio non la capite non la capite on peut en vouloir au monde entier possiamo avercela con Dieu avercela con le monde entier mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont prévu de partir à 20 ans à 30 ans ma è vero ci sono delle persone che hanno previsto di morire a 20 a 30 a 50 anni si che non è non è una cosa accettabile anche io lo dico sempre nei miei corsi la mente dell'uomo non accetta questo non fa parte della logica della mente dell'uomo è per questo per questo che non è una storia di logica perché la logica la ragione dell'anima è diversa no? cos'hai detto? la ragione dell'anima è diversa dalla ragione della mente dell'uomo e dal cuore questo è il problema conferma conferma bisogna imparare a lavorare su quel piano lì no? giustamente ci sono tante domande Anna vado avanti allora Anna ti faccio una domanda tutto ciò che impariamo ora qui sulla terra sulla morte sul passato cioè tutto ciò che insegna i tuoi corsi nasce su morte ce lo ricorderemo al momento del trapasso? questo è un passato rappelato il momento dell'amore forse sicuramente non preoccupate perché in qualche modo da qualche parte è registrato quindi forse quando partirete vi verrà in mente ve la ricorderete ma è vero che qualcuno che non ha mai entendu tutto qualcuno che non ha mai sentito parlare di questo beh il gli fa un po' di tempo beh gli ci vuole un po' più di tempo ma è arrivata di rencontrare per esempio una dame una viella dame che era in train di cercare di ottenere la porta mi è capitata di incontrare una signora anziana che stava cercando di aprire la porta e si rendeva conto che la porta non si apriva ed era morta mentre stava giustamente aprendo la porta e continuava questo gesto perché non si era resa conto che era morta era passata dall'altra parte ma questa ve la ricorderete e senti a proposito c'è di morti ma di suicidio c'è Mariella che ha fatto una domanda interessante dove dice che è anche un po' una constatazione ci sono purtroppo dei suicidi che presentano di fondo delle malattie psichiatriche molto grave gravi quindi come vanno letti cioè questi sui suicidi no allora è più sapevolezza insomma in questo caso è più un problema e questi problemi ci sono dei plan da previso o ci sono dei sovi specifici per quel tipo di problemi ci sono dei piani del dopo vita in cui ci sono delle cure specifiche allora perché perché la persona ha vissuto questo ci possono essere mille motivazioni diverse è la regola di vie di storia che l'ha così fa subire sta sistemando le vecchie storie che ha fatto subire o è che attraversa e apprende altre cose attraverso questo impara altre cose non lo possiamo sapere certo mi pare insomma di capire questo che ci sono alcuni come dire ci sono delle situazioni in cui si capisce che poi viene fuori il nostro limite tu Anna ci sono delle cose che noi non possiamo sapere e adesso ci sono delle cose che non possiamo sapere se c'è un limite no a volte ci sono delle cioè non possiamo voglio dire non possiamo trovare noi qui una risposta a tutto una risposta a tutto no c'è là che io vivo che bisogna fare confianza a nostra è per quello che dico bisogna avere fiducia nella nostra anima perché la nostra anima lo sa anche se noi non sappiamo e abbiamo l'impressione che sia ingiusto che sia troppo duro ma la nostra anima sa il perché ci accadono alcune cose per quello che prima dicevo più lottiamo contro quello che ci accade più soffriamo è come se stessimo lottando contro un'iniziazione c'è un'altra domanda e questa è simpatica anche chiede Rocco Marafiati dice ma e alle persone che va tutto liscio come l'olio che cosa sono tornate a fare la vita è perfetta la vita è perfetta che si non fanno nessuna patita è tutto bene è tutto comodo è tutto perfetto ci sono delle persone che sono perfettamente allineate anche se è un gangster o se c'è qualcuno che fa delle cose mauvese anche se fosse un gangster o qualcuno che fa delle cose cattive tantch'il è allineato al niveau di queste parole di queste pensate di queste atti finché è allineato a livello delle parole pensieri e delle azioni sarà in generale molto più in forma sarà in generale molto più in forma che qualcuno per esempio che è in evoluzione spirituale rispetto a qualcuno che sta facendo un cammino di evoluzione spirituale e che sta cambiando è perturbato sta facendo delle domande perché sta lavorando per far rimanere la base per poter nettoyare il lago perché sta lavorando per far risalire la melma per pulire il lago e poi ci sono invece delle persone che possono avere una vita di riposo perché hanno avuto delle vite molto stressanti molto bello devo far vedere un momento il tuo libro Ann perché lo stanno prendendo adesso lo faccio salire eccolo lo vedete e se la vita continuasse edizioni Amrita ecco lo lasciamo lì un attimo così almeno i nostri compagni lo vedono ci chiede Gabriele Gabriele Uvolotti ci chiede una spiegazione della differenza tra l'anima e il sé invece l'anima e le sue è l'esprit diciamo che il sé rappresenta la parte inconscia della dimensione umana ecco quindi la dimensione umana ecco l'anima è legato al corpo il sé ecco la dimensione umana ecco e l'anima no no era per capire quando un'anima va s'incarner su terra quando un'anima s'incarna sulla terra all'inizio è unita col tutto e poi petit a petit au fil dei neuf mois di grossesse e piano piano durante i nove mesi di gravidanza inizia a formarsi a costruir una personalità che le servirà durante questa vita e questa personalità con qualità con defauti con qualità con qualità con tutto ma inoltre va anche petit a petit al momento della naissance a perdere la memoria di ciò che è pian piano più si avvicina al momento della nascita più pian piano perde la memoria di ciò che era per poter s'adapter al mondo nel quale vive per potersi adattare al mondo in cui si sta incarnando e vivrà una parte di sé una parte di lei sa perché viene che cosa deve fare mentre l'altra parte può avere paura e essere nell'incertezza perché non ha la conscienza di il motivo per cui si sta per reincarnare sulla terra e ritornare ma in un tempo è come un salvaguard il ombli è come un salvaschermo non è facile un sovtage un ancora di salvezza eccolo è un po' come un ancora di salvezza di di ombli di di dimenticare si si Se noi fin all'inizio sapessimo che il nostro padre in un'altra vita era stato il nostro carnificio, per esempio, o che sappiamo fin all'inizio che alcune relazioni che vivremo saranno catastrofiche, non reagiremo nello stesso modo. L'obiettivo è di ritornare con determinate persone e con determinate situazioni e poter affrontare queste situazioni senza sapere di più, come se avessimo delle carte nuove. Certo, certo. Non risolveremo se sapessimo. Sì, on sapeva già, on arriverà a risultare. Sì, e poi on irà peut-être juste au but, alors que c'est le chemin qui est important. Oppure, per esempio, cercheremo di andare dritti verso la fine, verso la meta, mentre quello che conta è il cammino. Certo, quello che ci permette di elaborare davvero un percorso di crescita, anche se noi non accettiamo mai questo fatto di dover faticare. Non abbiamo molta voglia di soffrire. Appunto. Eppure è la via della crescita. La sofferenza, in quello che ho ricevuto, dalla mia guida, è che i tre quarti della sofferenza sono dovuti al mentale. E' il modo in cui percepiamo e comprendiamo le cose che creano molto più sofferenza di quelle cose. Certo, al mentale, certo, sì. Anche sicuramente al fatto che tante volte noi la sofferenza la generiamo perché ignoriamo. Ecco, c'è un'altra domanda di Carmela. Carmela Ferro dice, perché la comunicazione tra i mondi è così difficile? È più possibile solo ad alcuni, no? C'è un'altra domanda che arriva a comunicare con gli altri mondi. In realtà dovremmo tutti poter comunicare con gli altri. Ma è il nostro mentale che crea il bloccage. È il nostro mentale a creare il blocco. Io lo vedo, per esempio, quando faccio dei corsi sulla lettura dell'aura. Alcune volte ci sono delle persone che vedono spontaneamente. E poi, quando una volta dopo cercano di vedere, non riescono più a vedere. Perché il mentale blocca. E noi siamo in delle civiltà in cui il mentale è ben strutturato. Quindi abbiamo difficoltà ad entrare in comunicazione con altri mondi. Quindi abbiamo difficoltà ad entrare in comunicazione con altri mondi. Mi ricordo di un guaritore filippino che mi diceva che loro, da bambini, i nostri genitori, che erano questi guaritori, ci dicevano pensate che il corpo fisico è come l'acqua. E quindi quando infilate la mano potete entrare come se fosse dell'acqua, come si entra nell'acqua. E quando ha detto questo ho capito, ho capito come tutti i nostri genitori ci insegnano questo e a questo momento per loro è possibile. E quindi mi sono resa conto che se questa cosa gli viene insegnata da bambini, da piccoli, per loro diventa assolutamente possibile. E è per questo che i veri guaritori possono passare la mano dentro il corpo. Ed è per questo che i veri guaritori possono passare la mano dentro il corpo. Certo, certo. Altre domande? Mirella Sant'Amato, che è anche una nostra relatrice, dice capire perché ci arriva il cosiddetto male nella vita e tutto ciò che dobbiamo fare per evolvere e stare bene? Le disgrazie e le difficoltà sono solo delle prove iniziatiche per evolvere e stare meglio? Per me, tutto ciò che arriva nella nostra vita, soprattutto quando è desagretto, tutto ciò che accade nella nostra vita in particolare è quando è desagretto. Per me, tutto ciò che accade nella nostra vita in particolare è quando è desagretto. E' lì per farci porre la domanda perché mi sta accadendo questo avvenimento, questo fatto difficile? E perché incontro quella persona? Che cosa tocca questo in me? E come devo fare per poter fare che non mi fasse soffrire? E come posso fare affinché questa cosa non mi faccia più soffrire? Per esempio, per qualcuno che manca di rispetto verso se stesso. Si può trovare di fronte a una persona che non la rispetta sempre. che sia per degli atti violenti, che sia fisicamente o moralmente. Che magari fa atti violenti a livello fisico oppure a livello morale. fino a che a un momento la persona si dice ma è che mi rispetto veramente? Finché a un certo punto la persona non si dice ma io mi rispetto davvero. E se mi rispetto, è che mi accetto di subire tutto questo? E se mi rispetto, accetto di subire tutto questo? Quindi questo permette di sviluppare o di guarire o di imparare le cose che dobbiamo imparare, che noi siamo venuti a imparare, a sviluppare. C'è un'altra domanda, anche questa molto interessante, sull'eutanasia. L'eutanasia. E di Sara Moretti che dice l'eutanasia richiesta da un malato che soffre tantissimo ed è inguadibile. È da considerarsi un suicidio? Suicidio o non? Allora, diciamo che non puoi parlare di suicidio veramente perché qualcuno che soffre di tutta façò non puoi capire cosa che sia. non si può parlare veramente di suicidio perché qualcuno che sta soffrendo molto non riesce a captare niente intorno. Ma qualche volta è accaduto che una persona realizza improvvisamente il perché si trova in quello stato. all'ultimo istante. E c'è a questo momento che, all'ultimo, che si trova in questo momento, si trova in questo momento, improvvisamente guarisce su altri piani la propria storia. Quindi è importante non interrompere il processo. E mi ricordo che abbiamo parlato con un medico oncologo conosciuto in Francia. E io mi ricordo che quando le persone mi dicevano che voglio farla finita, devo farmi un'eutanasia perché sto soffrendo troppo. e gli dicevano che io non lo faccio, ma io vorrei mettere a conto di vostra tavola di niente una seringa, e poi una potione. Che potete prendere che va a raccorsiare la vostra vita? e gli dicevano che io personalmente non lo faccio, ma le lascerò qua sul comodino delle compresse o un'iniezione o qualcosa con cui lei può interrompere la sua vita. E mi ha detto che mai nessuno ha preso quelle compresse. Perché io credo che semplicemente la persona non voglia soffrire. Ed è quello che bisogna arrivare a curare, la sofferenza. La sofferenza, certo, la terapia del dolore, certo. E qui la terapia della dolore, c'è questo. E non fare come noi stiamo facendo adesso, cioè tutte le persone agire, loro donne, un raccorsismo di vita. E non fare come si fa adesso, che a tutte le persone anziane si dà un accorciamento della vita. Eh, sì. Eh, sì. Non c'è così. Ah, in Italia potete non avete il stesso medicamento? Ma ci sono le persone che vendono un medicamento che lo faranno partire. Ah, sì. Perché in Francia mi sta dicendo che le persone, durante la crisi, le persone che erano negli auspizi gli davano dei farmaci che le aiutavano ad andare via per il mare. E questo è dell'eutanasia. E questa è una forma di eutanasia. Non consentimento. Ah, tra l'altro senza il consenso. Certo. Non voglio esprimere il mio commento. Certo. Ecco, Rita Giannatempo chiede sempre sul discorso delle malattie, però lei chiede sempre sulla malattia mentale. Ma che ruolo ha la malattia mentale nella nostra crescita? C'è un ruolo della malattia mentale nella nostra crescita? Beh, lei può avere più... Dei ruoli differenti. Può essere un ruolo iniziatico. Può essere un ruolo iniziatico, come altre cose. E ci sono anche persone che sono venute per... che hanno preso un karma che è lourd. Perchè hanno fatto delle cose che non erano più chiare. Perchè hanno fatto delle cose che non erano più chiare nelle vite precedenti. Ma spesso accade perché la persona ha messo dei veli che coprono sempre di più una realtà che lei non vuole vedere. o che non vuole affrontare. E ci sono delle meditazioni fatte dalle persone intorno a lei che possono aiutarla, ma... Ma è solo la persona stessa che a un certo momento riuscirà a togliere i veli. Sì, ma se questa malattia è congenita, cioè dalla nascita... È congenitale, dopo la nascenza. Per esempio... Delle malattie mentali o con anche, ad esempio, nascere con un principio di asfissia neonatale, perché manca il cervello l'ossigeno e quindi si crea delle pressioni, si crea un ritardo... No, non volete tra le resi spastiche. Allora, ho già visto delle persone che si incarnavano e mi dicevano... Ho già visto delle persone che si incarnavano e mi dicevano... E che dicevano che mi incarnavano nel corpo di un bambino che avrà una malattia piuttosto che un'altra. Sì, che era, per esempio... È una scelta. Con una forma di handicap, per esempio. Così potrò studiare questo handicap dall'interno E di trovare, in un'altra vita, come poterlo guarire. E in un'altra vita troverò come poterlo guarire. Allora, c'è una possibilità per l'altra. È una delle possibilità. Non è l'altra, non è l'altra. Viene sempre poi fuori di fronte agli aspetti più dolorosi, come anche adesso. Ti farò una domanda sull'Alzheimer. E che poi ci sono appunto quelle ragioni che sono... Io chiamo le ragioni dell'anima. Che non appartengono alla ragione della mente dell'uomo, ma che hanno un loro motivo. Non si può sapere. Non si può sapere. Ci sono delle cose che non sappiamo. Che noi non sappiamo. Ci possono essere molte cause diverse. Ma è vero che è la sofferenza che fa molto più paura che la morte. Ma è davvero la sofferenza che fa molta più paura anche della morte. Sì, però è anche quella che fa crescere di più nella gioia. Purtroppo. No, nel senso che noi capiamo molto di più nella sofferenza che non nella gioia, no? Purtroppo. 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 Sull'Alzheimer. Ecco. Qual è il significato dell'Alzheimer? Allora, l'Alzheimer, spesso ci sono delle persone che non hanno più voglia di stare sulla terra. Sono stufi. Ma in un momento, non hanno finito completamente di vivere ciò che dovevano vivere. Ma non hanno finito completamente di vivere ciò che dovevano vivere. Quindi una parte di loro non ha più voglia di essere lì. E il corpo fisico resta. Ma il corpo fisico rimane. Ma durante questo tempo, ci sono anche molti vaccini che hanno creato questa problematica. Ultimamente ci sono anche molti vaccini che hanno creato questa problematica. perché c'era dentro dell'alluminio, l'idrosso di alluminio o per altre cause diverse. E quindi hanno modificato. Si. 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 Ma. Si. 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 perché abbiamo un atteggiamento che farà sì che non avremo questi problemi tra due incroci del percorso possiamo anche creare tanti problemi oppure possiamo avere una strada più facile e questo può dipendere un po' dal nostro lato creatore a volte la vita ci mette di fronte a delle situazioni che ci permettono di risolvere delle vecchie storie senza che nemmeno ci ne rendiamo conto e questo toglie degli ostacoli sulla strada credo che la nostra amica Lorella in qualche modo volesse anche fare riferimento a un aspetto che io ho visto parecchie volte con questo esercizio della legge di attrazione che da qualche anno sono le persone che alcuni seguono il percorso della legge di attrazione dell'utilizzo della legge di attrazione per generare dei benefici anche materiali e quindi ti dicono tu visualizza la cosa che vorresti è forse visualizzare e avere proprio un vissuto emozionale di essere già in questa casa di vederla, di viverla arredata allora tutto questo ad esempio tutti questi esercizi sulla legge di attrazione in che modo si incastrano su quello che può essere appunto il percorso dell'anima che è stato preparato prima di incarnarti noi facciamo l'esercizio della legge di attrazione è stai cercando la legge di attrazione l'esercizio della legge di attrazione non 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 si può cambiare completamente la vita si può cambiare degli aspetti, delle parti del percorso per esempio, se si è scelto di venire per sperimentare davvero la povertà anche se fai questi esercizi la ricchezza non ti arriverà oppure ti arriva la perdi subito dopo ma anche se il risultato è materiale permette di far realizzare alle persone che il pensiero ha un potere però se resta solo nel campo del materiale a un certo punto poi si consuma questa è per esempio la differenza tra una navicella spaziale un UFO fatto dai militari e un UFO che arrivano da un altro pianeta e c'è la stessa cosa vale per i crop circoli alcuni sono fatti dai militari a livello fisico e non hanno per niente la stessa energia mentre altri sono fatti da altri esseri ma non è assolutamente la stessa tra l'altro per esempio Gesù faceva la differenza tra i maghi del deserto e ciò che lui faceva i miracoli avevano la stessa apparenza ma dentro non c'era la stessa energia la stessa energia certo e c'è là che si fa la differenza è lì che si vede la differenza tra i due mi approfitto di questa tua affermazione per chiederti qual è la tua visione e le tue interpretazioni e un po' l'hai già detta dei cerchi la tua visione è tornata più di crop circoli l'ho già detto un po' sì, beh, giustamente ci siamo andati varie volte nei cerchi di grano alcuni sono davvero delle risposte a certi, per esempio, teoremi ad alcuni teoremi a certe ricerche scientifiche alcuni sono là per dare un'energia particolare alla Terra e poi ci sono fatti per mistificare e alcuni invece sono fatti per mistificare per mostrare che non c'è di veri crop circoli e per far vedere che non ci sono dei veri crop circoli, per esempio e in questo momento, soprattutto, c'è due energie contrari che sono face a face in questo momento ci sono due energie contrarie opposte che sono una di fronte all'altra faccia a faccia quindi tutte queste cose là appaiono molto più e quindi tutte queste cose appaiono molto di più rispetto a prima avrete una cosa e il suo esatto contrario e questo fa sì che non sappiamo davvero più a chi credere non sappiamo più in chi avere fiducia e questo obbliga davvero a entrare all'interno di se stessi all'interno di noi stessi per sentire in chi abbiamo fiducia con chi siamo in armonia con chi le cose funzionano cosa mi tocca dentro cosa mi risuona avevamo già iniziato a toccare questo argomento la volta precedente il rapporto con altre dimensioni con altri planeti con altri esseri quindi i cerchi nel grano sappiamo che sono la testimonianza se da una parte c'è l'inganno cioè l'altra sappiamo che invece arrivano da altre dimensioni sì sì sicuramente possono arrivare da diverse dimensioni per dare risposta alle ricerche sono davvero dei segni e un'energia molto diversa rispetto a quelli che vengono creati dagli esseri umani anche se l'apparenza è la stessa ecco ci sono tante domande sto cercando di scegliere allora aspettate perché non è giunto il momento che la chiesa riconosca o meglio riporti la reincarnazione Katia Romagnoli dice non è forse bene che la chiesa finalmente riconosca la reincarnazione ma sarebbe il momento sì sì sarebbe il tempo ma con tutto ciò che accade in questo momento tutto è perturbato è perturbato perché non avremmo ne verremmo fuori grazie alla religione o grazie alla politica perché è come se tutte queste persone che detengono il potere perché tutte queste persone che detengono il potere sono in train di vivere stanno vivendo delle cose che le disturbano e che ci disturbano parliamo un momento di attualità visto che siamo entrati così ecco nel tema ecco perché stavo guardando l'ora e quindi vorrei ecco parlare un momento insomma dell'attualità ecco di quello che di quello che sta succedendo perché come dicevamo prima la gente è molto impaurita ma sì le persone hanno molto paura è come se ci avessero inviato un test gigantesco una prova gigantesca e che questo test ci dice ma adesso è che voi siete prati a vi mettere debù e questo test ci sta dicendo siete pronti a innalzarvi alzarvi in piedi ci obbliga a alla fois a riflessire all'interior di noi ci obbliga al tempo stesso a riflettere all'interno di noi stessi a ricentrarci e non puoi dire che le personaggi all'extérieur che hanno creato tutta questa storia ma non possiamo dire che i personaggi che all'esterno hanno creato tutta questa storia siano i soli responsabili perché è come se noi gli avessimo permesso di essere là non possiamo dire da un lato ci sono i buoni dall'altro ci sono i cattivi ma sta a noi farne qualcosa di costruttivo e c'è sempre più oppressione per vedere fino a quando le persone accetteranno di essere oppresse ed è evidente che a un certo punto bisognerà innalzarsi e innalzarsi non vuol dire essere in guerra perché se siamo in guerra se siamo in colere questo ci è impedito di capire la più alta parte di noi se siamo in guerra se siamo arrabbiati questo ci impedisce di percepire la parte più elevata di noi stessi ma per conto fare della resistenza passiva fare du boycott ma invece quello che è importante è boicottare o fare della resistenza passiva noi stiamo facendo una lista dei comuni perché c'è nessuno che sono dei resistenti e che hanno un po' envie che i bar fermi che i restaurant fermi che i magazzini fermi ci sono dei signori che hanno detto io non voglio far chiudere i bar nel mio comune non voglio che i ristoranti chiudano non voglio che i negozi chiudano e hanno si sono opposti e a un certo punto bisogna che questi sindaci siano aiutati dalla popolazione affinché i bar arrivano ancora aperti i ristoranti e così via ma in stesso tempo c'è quand même come una prova iniziatica ma al tempo stesso un po' come una prova iniziatica cosa facciamo con questo che sta accadendo chi on croi chi on ne croi a chi credere a chi non credere che cosa facciamo continuiamo ad avere paura perché c'è a nuovo la paura della morte è di nuovo la paura della morte e se abbiamo paura della morte abbiamo paura della vita e quindi non osiamo ma ha visto un po' di reazioni positive in Italia ogni tanto le mandiamo qualche articolo diciamo che si è creata una situazione che a livello storico ecco non si è mai vissuto perché con un evento come questo quindi di un virus si sono azzerate tutti quelli che sono stati i percorsi di crescita delle popolazioni nella conquista dei diritti abbiamo visto che un covid ha fatto sì che nessun parlamento avesse più possibilità di decidere ma ci fosse qualche cosa che scavalga ci sono voluti secoli per garantirsi dei diritti di persone per garantirci dei diritti una costituzione una libertà e adesso però abbiamo visto come un virus può bypassare tutto è incredibile e questo sul mondo intero e in un momento come la planeta è in piena mutazione ma al tempo stesso poiché il pianeta è in piena mutazione è il mondo intero che deve svegliarsi e se dicono ma le nostre basi eravamo su un tipo di crescita che stava distruggendo il pianeta a qualsiasi livello e a livello umano c'erano delle disparità enormi ci sono ancora degli schiavi e non c'erano e non c'erano o tanti volevano che queste cose cambiasse ma non sapevamo come fare e adesso siamo di fronte a un muro quindi al tempo stesso è anche un'epoca straordinaria e dobbiamo sapere che se ci siamo incarnati tutti in quest'epoca è perché abbiamo un ruolo da recitare non a caso ci siamo incarnati in quest'epoca quindi questo è davvero importante e bisogna sapere che la Terra è un engeo alla Terra e ci sono dei pianeti che vorrebbero conquistarla e che aimerà avere un certo gruppo di esclavi la Terra è proprio una posta in gioco e ci sono dei pianeti che vorrebbero appunto avere un bel gruppo di schiavi perché per alcuni esseri di altri pianeti ci considerano un po' come del bestiame perché abbiamo dei comportamenti che non sono molto piani quindi c'è delle poste in gioco su molti piani e gli esseri che in questo momento sono lì al governo sono loro stessi sono governati da altri sono solo delle marionette al servizio di altre energie ecco una delle domande è appunto da dove arriva questo covid qual è lo scopo del covid e poi c'è chi dice ma tutte queste persone che sono morte da sole da sole sì allora che ha anche come scopo quello di ridurre una parte della popolazione e soprattutto ha lo scopo di vedere come reagisce la popolazione un po' un po' esclavaggio di Giorgio di Giorgio con il covid si fa prima con il covid si fa prima Donatella ci chiede posso chiedere a Dan su un altro tema gli esseri alieni che sono molto avanzati di noi tecnologicamente molto più antichi di noi come razze sono necessariamente anche più evoluti spirituali non sempre non obbligatoriamente non perché guardate par esempio quando c'erano i conquistatori che andavano conquistare dei paesi l'America del sud per esempio in America del sud sono andati a conquistare arrivavano con tanta tecnologia ma non per questo avevano una grande spiritualità quindi dipende tutti i pianeti dell'allianza sono dei pianeti che hanno un alto livello di spiritualità tutti i pianeti dell'alleanza sono dei pianeti che hanno un alto livello di spiritualità e io parlo nel libro Allianza e ne parlo nel libro Alleanza ma ci sono dei pianeti che vogliono conquistare la terra come noi abbiamo fatto in altri paesi ci sono dei pianeti che vogliono conquistare la terra come noi abbiamo fatto con altri paesi ma la domanda interessante è questa cioè se queste queste razze più evolute hanno anche loro raggiunto questa evoluzione attraverso quella che è l'esperienza nostra delle sofferenze per evolvere comprendere oppure hanno dei livelli evolutivi che sono realizzati sui standard oppure hanno un livello evolutivo loro che non è passato attraverso la strada che è per noi di soffrire per prendere per prendere c'è ne sono che sono evoluti e non sono passati dalla stessa nostra strada per esempio per esempio veramente giovani forti di sofferenze di sofferenze di sofferenze di sofferenze degli uomini bionici 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 creati ma il nostro aspetto Anna quello che io dico sempre dobbiamo cercare di difendere la nostra umanitudine cioè il nostro essere quindi i nostri sentimenti le nostre emozioni allora questo aspetto secondo me è un aspetto molto importante per quello che riguarda il confronto con altre rasi ed è la cosa che cercano di toglierci questo aspetto umano isolandoci certo risole emozioni niente abbraccio quindi direi che noi dobbiamo io insisto molto su questo dobbiamo cercare di usare comunque cioè sarebbe stupido non prendere le precauzioni perché il virus esiste ecco non esiste quindi usare mascherismo per evitare questo però dobbiamo cercare di mantenerci vivi no? esiste vivi bien sûr ma quando c'è delle epidemie di gripe non abbiamo mai fatto quando c'è delle epidemie di influenza non l'abbiamo mai fatta questa cosa e in france le epidemie di influenza hanno fatto tante morti quanto in covid quest'anno non ci sono più morte di influenza ma tutti muoiono di covid quindi forsemmo non può non è paragonabile non è paragonabile è molto curiosa questa cosa ma è par contre ciò che diceva vivono vivono molto più a lungo vivono molto più a lungo mantengono la giovinezza hanno alta l'importante tecnologia ma non hanno niente a fare a livello energetico gli uni con gli altri ma direi che noi siamo già comunque una testimonianza di quello che tu stai dicendo Ann perché noi abbiamo avuto molta evoluzione tecnologica e siamo andati di pari passo con quella spirituale enorme no? di un nuovo tecnologico spirituale noi stessi siamo comunque una dimostrazione ecco di questo c'è una domanda di Emilia che dice buonasera ma cosa ne pensa Ann di Nubiru chiamato anche il pianeta X Fabian non ha molte informazioni su Nubiru il famoso pianeta X che l'ha sentito ma non ha molte informazioni da coprire va bene qui ci sono delle informazioni questi alieni sono anche come noi la manifestazione della coscienza cosmica le stesse terrestre sono anche loro sono una manifestazione ma certo sicuramente ci sono migliaia di mondi abitati esseri che hanno dissecato le loro esaurito le risorse del loro pianeta perché erano completamente della tecnologia e hanno cercato rifugio sulla terra e cercano ancora rifugio sulla terra perché ci sono degli alimenti e degli ingredienti che non possono trovare altrove che sulla terra e soprattutto che non hanno più sul loro pianeta ecco la tua visione è che invece noi abbiamo degli alieni sulla terra ah sì c'è ci sono anche tanti suffisamente in tutto c'è 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 il sottosuolo e poi c'è c'è il sottosuolo alcuni s'incarnano per aiutare il pianeta alcuni prendono un corpo momentaneamente per una missione speciale e poi c'è 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 ce n'è di tutti i tipi che vogliono aiutare e quelli che vorrebbero conquistare il pianeta quindi noi siamo terra di conquista è una terra che è molto desiderata che attira molto perché perché si condotta le anni perché 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 c'è delle riviere che n'y'a ailleurs ci sono di che non ci sono altrove on l'appelle la planète bleue viene chiamata il pianeta blu ma in un è un planet dove c'è una vegetazione che può ne ne avere su d'autres planet c'è una vegetazione che non c'è su altre pianeti e delle possibilità più belle si sa la buco offre è un pianeta che ha molto da offrire allora ancora una o due domande vorrei guardando l'ora non voglio approfittare così tanto della tua generosità ecco come riconoscere gli alieni buoni e quelli che ci vogliono male un extraterrestre buono non obbligare qualcuno un extraterrestre buono non obbliga gli altri e poi lo sentiamo tutto all'energia e poi a livello energetico si sente subito quando si sente bene non direi quando non abbiamo paura non dico quando non abbiamo paura ma ci sono dei esseri che non comprensiamo ma sono degli esseri che non ci obbligano mentre un extraterrestre che non è positivo per i terrestri può operare ci mette delle piante può fare delle esperienze su di noi eccetera e là sappiamo subito che non è piacevole dovete avere fiducia nel vostro cuore e soprattutto non avere paura perché qualsiasi sia la razza in ogni modo si sentono che avete una forza all'interno di voi non verranno a disturbare sono testimonianze anche di alcune persone degli attacchi prelevati che ci testimoniano alcuni sono gentili gentili altri sono un po' meno gentili ecco adesso l'ultima domanda la faccio io facciamo una domanda insomma di attualità ecco quindi nello scenario attuale ecco quella che è la realtà di questo tempo che è una realtà appunto come dicevamo molto confusa dove non si sa ecco insomma a chi credere ecco lasciamoci con un consiglio e anche con l'augurio perché ci rivedremo nel prossimo anno sicuramente ne approfitterei anche per fare gli auguri per la conclusione di questo anno che non è stato insomma dei più felici però vorrei appunto chiederti di dire ai nostri amici che ci stanno seguendo che io ringrazio perché sono stati numerosissimi sino adesso e vorrei che tu appunto ci lasciassi con quelle che sono le tue riflessioni su il presente e quello che sarà il futuro e come ci conviene insomma e sulle future che va come conviene rappresarci a questo tempo il mostriore ecco insomma questo periodo è la migliore possibile allora ma ce che proposerai c'è veramente quello che vi propongo è già di cercare già di avere il meno paura possibile e questo lo possiamo fare ritrovando la nostra umanità sapendo che ci sono molte manipolazioni veramente e a un momento di diventare un po' come delle batterie di luce perché è questo che ci aiuterà e quando sentiamo che c'è la tristezza la paura il dubbio che ci abitano bisogna davvero respirare la luce e se sentire come una batteria luminosa e sentirsi proprio come una fila una batteria luminosa che va vraiment emaner autour d'elle che emana intorno e e vedrete che in quel momento ci sono delle cose che inizzeranno a cambiare e ça c'è importante perché c'è che questo è davvero importante perché sono i nostri pensieri il nostro modo d'essere che faranno sì che la terra possa cambiare e là sarà come un virus di lumière un virus del computer un virus di luce che può essere attrapato che tutti prenderemo creiamo una grande gregora creiamo una grande gregora seguite i consigli di anna bene caran allora io ti ringrazio davvero tanto tanto spero che tu sia stata bene con noi grazie a tutti grazie a tutti voi per l'invito e per la salata ecco grazie ancora anche da parte di Enrico Valentini io ti do appuntamento al prossimo anno carana organizziamo un altro proposito andiamo a verificare come vanno le cose e se siamo stati bravi a creare una bella egregora di luce per aiutare di là on crea un bel egregore da qua alla prossima appuntamento creiamo tutti una bellissima egregora di luce assorbe tutta l'ombra molto bene e visualizziamo questo è vero? ci auguriamo questo e via ombre allora grazie ancora infinitamente ringrazio tanto la nostra Francesca grazie per la traduzione sempre così molto come si dice la tua traduzione consecutiva no? simultanea no consecutiva sì consecutiva esatto ma quello che è bello che non è consecutiva di solito è consecutiva perché dopo invece sei molto unita inventeremo una parola per dire che tra la simultanea e la consecutiva con un po' di qualche cosa di più quasi simultanea quasi simultanea è vero? ecco grazie infinite Francesca grazie tanto che ci avete il tuo lavoro grazie ancora grazie un abbraccio grande grazie Damrita un saluto grazie anche ad Damrita perché con questo libro compratelo l'avete fatto vedere regalatelo perché è un bellissimo regalo che fa capire proprio il senso della vita e anche della vita che continua soprattutto e quindi non c'è un sé e se la vita continuasse noi sappiamo che la vita continua è la vita continua assolutamente grazie ancora di tutto grazie Anna grazie Francesca grazie a voi ciao e io vi saluto cari amici e vi do appuntamento alla prossima settimana con il prossimo salotto sarà un salotto di Anna extra quindi affronteremo le tematiche appunto dei rapporti con altre dimensioni e altri pianeti e vi ringrazio ancora infinitamente a presto un abbraccio carissimo da me da Focus che è sempre vicino a voi ciao a tutti e a presto rivederci a presto a presto a presto a presto a presto